Interisti eccoci qua, ci sono, ci siamo. Ragazzi un po' di news e adesso come avevo detto ieri dopo le feste, dopo il ferragosto inizia, ricomincia a muoversi qualcosa e soprattutto adesso si inizia a muoversi anche con un po' più di velocità perché il mercato giunge al termine, mancano più o meno due settimane, il campionato praticamente è questo fine settimana, quindi tutte le squadre si devono dare una mossa per completare e per fare gli ultimi colpi, sia in Italia che all'estero si inizia anche a parlare di movimenti grandi tra squadre, Ronaldo, PSG oppure Ronaldo, Real, Mbappé, Real, Icardi, insomma un casino, ma noi guardiamo al nostro, Zanga ha assicurato nuovamente, quindi c'è una sorta di patto con Marotta che non verrà più venduto nessuno, tant'è che le offerte del Tottenham non erano solo chiacchiere, ma erano offerte reali, una di 70 più bonus mi pare, un'altra addirittura di 80 più bonus, insomma entrambe per arrivare a 90, 70 più 20, 80 più 10, più o meno una cosa del genere, insomma in totale 90 milioni, rifiutate entrambe sia dall'Inter sia dal giocatore anche perché io penso che Lautaro se voglia andare via voglia andare in Spagna come ho sempre detto e comunque andando al Tottenham non fai quel grandissimo saldo di qualità secondo me che potresti fare appunto in un City, in un Liverpool, in un Chelsea, queste squadre qui, tra l'altro ha parlato anche il procuratore, tra poco lo vediamo, prima di iniziare a parlare, ragazzi vedrete che da oggi pomeriggio barra domani inizieranno a uscire notizie, non solo dell'Inter, parlo in generale, il calcio mercato inizierà a darsi una mossa, come con la Juve con Locatelli, l'Inter la punta, il caso Nandez, quello là sicuramente sarà ultimi giorni di mercato, sempre se si riesce a fare, sempre se esce qualcuno, Ronaldo si capirà se rimane, Mbappé, tutta una serie di cose, quindi vediamo. Intanto andiamo ai vostri commenti. Allora, eccoci qua, Schild, il nostro fidato Schild, allora ci dice, ora, se Nandez rifiuta il Tottenham per venire ad ogni costa all'Inter e si impunta, non è impossibile il suo arrivo, non lo vede impossibile, infatti il PSG sta trattando pure Ronaldo, ma il calcio è del povero, è la meglio fare sta Superlega a sto punto, almeno non c'erano tutti questi problemi, quindi alla prima del campionato col Genova vorrei tanto vedere la coppia d'attacco Dzeko-Satriano, pure io, perché forse Satriano riesce a recuperare, anche perché Saracenzi è infortunato, Lautari è affaticato ma comunque squalificato, quindi è uguale, ci manca la punta, c'è Dzeko, Satriano sembra essere recuperato, a me veramente piacerebbe un sacco vedere Dzeko-Satriano, sempre se non si gioca come va dirlo Kiev, quindi con una punta, ma con un Doomfist in più, non lo so, se Doomfist partirà subito a razzo, perché è appena arrivato, deve ancora ambientarsi, prima di tutto, schemi e quant'altro, vedremo, ma secondo me, o titolare, o secondo me, subentrato, vedrai che secondo me giocherà Darmian all'inizio. Per Correa lo vedo più probabile, visto che in uscita, che Correa in uscita, i giorni passano e alla fine del mercato, e le pretese dell'Otito le abbasserà, tra l'altro l'Otito, siccome vi ho detto che ha bisogno di un indice di liquidità, quindi di soldi per tesserare i giocatori, sta facendo strani magheggi con acconti da 10 milioni, non so che cazzo sta facendo, va bene, per Zapata ci credo poco, visto che l'Atalanta non ha manco cercato il sostituto, attenzione, attenzione, perché Belotti potrebbe anche andare all'Atalanta, se Gasperini si convince, visto che adesso è un po' titubante su Belotti, perché non è convintissimo da Belotti, attenzione, perché se Gasperini dice sì, attenzione, che Belotti potrebbe andare all'Atalanta, e Zavata potrebbe venire da noi, e poi Atalanta e il Torino, non lo so, che so chi andrà, attenzione, magari un Petagna all'ultimo potrebbe essere da Torino, non lo so, la butto lì ragazzi. Magari Jovic per l'età è buono pagare la rate, sarebbe orocolato, magari esplode come i tempi di Francoforte. Su Jovic è forte, però sento parlare molto del suo extracampo, forse ha un bel caratterino, non lo conosco, extracampo lo conosco per quello che fa in campo, in campo mi piace molto, extracampo non lo so, quindi qua non lo so, sento parlare su queste cose. Poi Salva ci chiede, ci fa tre domande, se Nandez alla fine andrà o no all'Inter, e ti dico che non si sa, non si sa, bisognerà solo aspettare, tra poco comunque parliamo anche di Nandez, quindi vi do aggiornamenti, di Lautaro anche lì ti do aggiornamenti, ma alla fine è quello che si è detto su quel video, ma ha parlato Camagno e tra poco dico anche quello, e di Agumet non lo so. Agumet in teoria dovrebbe andare a Sant'Etienne, in teoria ha rinnovato già, anche se sapete che su questi nomi Agumet magari si parla un po' meno, passano un po' in secondo piano, rinnova eccetera, però ho sentito dire che forse ha anche già rinnovato, e che quindi sarebbe già pronto ad andare in prestito, bisogna solo vedere a che squadra, forse il Sant'Etienne, non lo so, ad oggi non ho notizie, magari escono più tardi. Adesso andando alle news ragazzi, allora, intanto ieri è uscito un nuovo nome, è uscito il nome di Wegorst, non so come si pronuncia, lo chiameremo Wegorst, del se non sbaglio de Wolfsburg, 29 anni, se non sbaglio olandese, non lo so ragazzi, per me è un nome fatto un po' così, perché questo ragazzo andrebbe a costare mi pare sui 18 milioni, 15-18 milioni, ok? E sinceramente, se dovesse andare a spendere questi 15-20 milioni, a sto punto vado a prendermi o qualcuno in prestito, o vado a prendermi a sto punto Correa, questi qua che comunque costano 10 in più, più giovani, o comunque già abituati al calcio italiano, non lo so, questo è quasi 2 metri, segna tanto eh ragazzi, perché devo dire che negli ultimi 4-5 stagioni ha sempre andato in doppia cifra, sempre, median a 15-20 gol li ha sempre fatti, compresi di assist, compresi più gli assist, quindi 15-20 gol più assist, sì, però l'Italia, lo sappiamo, è un'altra cosa, bisogna vedere se l'ha adatto al campionato italiano, bisogna vedere se è adatto al modo di giocare di Inzaghi, e sinceramente non lo so, un giocatore di praticamente quasi 2 metri, se non sbaglio non è proprio agilissimo, eccetera, secondo me è uno dall'area di rigore, e che Inzaghi non gioca proprio così, non lo so, non lo so, sinceramente non mi convince, non mi convince sto nome, secondo me è un nome buttato lì, ma non lo so, secondo me i nomi restano quelli, ovvero, prima di tutto Correa Zapata, e Vlaovic molto sullo sfondo, perché su Vlaovic ragazzi, sembra che ci sia l'accordo con l'Atletico Madrid, 70 milioni, io non capisco una cosa, fino a ieri, mi pare, l'ho parlato di Vlaovic sul video, l'Atletico avevano detto, chiaro e tondo, che era rimasto il Tottenham, e l'Atletico aveva virato su Cugna dell'Herta Berlino, tutto a un tratto, tutti quanti scrivono, l'Atletico Madrid va su Cugna, l'Atletico Madrid va su Cugna, lascia Vlaovic, vira su Cugna, bla 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 bla, tutti, tempo tre secondi, cambiano tutti di nuovo, accordo addirittura, accordo Fiorentina-Atletico, 70 milioni, sinceramente non lo so, io so che oggi commisso dovrebbe essere a Firenze, oggi commisso deciderà, penso in modo definitivo, il futuro di Vlaovic, quindi se a tenerlo o darlo in via, io penso lo venderà, perché da quello che so, Vlaovic aveva anche un po' aperto al rinnovo, ma non gli sono state date alcune cose che lui voleva, tipo anni di contratto, lui ne voleva 4, commissi ne offerte addirittura 5, una clausola, lui le voleva 70, commisso la voleva 100, e penso che si sono trovati più o meno d'accordo sugli 80 milioni, non si trovavano d'accordo su quello che volevano gli agenti, che il prossimo anno sarebbe dovuto andare via per la cifra della clausola, che però avrebbero voluto una percentuale, insomma varie cose che hanno bloccato il rinnovo, e quindi penso che il rinnovo sia da escludere a sto punto, a meno che non ci sia una svolta, dico su qualcosa, e allora se non lo vendi quest'anno, tu dici sì il prossimo anno, quest'anno potrebbe spaccare ancora di più, però alla fine quello che è, è che il prossimo anno è in scadenza, quindi non puoi pretendere più di tanto, non puoi rischiare, perché dopo andresti a perderlo a zero in caso. Quindi attenzione, quindi oggi in teoria, ragazzi tra oggi e domani dovrebbe succedere tante cose, questa settimana, commesso decidere il futuro di Vlaovic. Si parla di Atletico che ha trovato l'accordo sui 70 milioni, non sono convintissimo, può essere, perché comunque i soldi li hanno, hanno fatto un finanziamento e quant'altro, vogliono un attaccante, il Tottenham un po' defilato, non lo so, il Tottenham si legge su ogni giocatore c'è il Tottenham, se andate a vedere, Milenkovic si è inserito il Tottenham, Nandez il Tottenham, Vlaovic il Tottenham, non lo so, però non so se abbia fatto un'offerta ufficiale, vedremo se questa cosa è un'offerta fatta ufficialmente, sia vera o no, per adesso vi dico quello che so, vedremo dove andrà a finire Vlaovic. Per il resto, ragazzi, invece Correa e Zapata siamo sempre lì, ci sono gli accordi con entrambi i giocatori, ragazzi, abbiamo già trovato l'accordo, se è concorrenza con Zapata, anche con gli agenti, è tutto fatto, il problema è da vedere con il club. Allora, qual'è la differenza? Che commisso si deve vendere per avere l'indice di liquidità, però avete visto, prima vi ho detto, sta facendo uno statagemma per riuscirci lo stesso, non vuole abbassare le pretese, sapete che lo tira un osso duro, eccetera. Dall'altra parte, l'Atalanta, loro libererebbero senza problemi, diciamo Zapata, perché Zapata vuole andare all'Inter, loro hanno capito l'intenzione di Zapata, eccetera, eccetera, però non c'è nel sostituto, quindi finché non troveranno un sostituto, Zapata non verrà liberato. Vediamo se Gasperini si convince o no su Belotti, se Gasperini verrà convinto su Belotti, andranno su Belotti, se non sarà convinto da Belotti, non so su chi andranno, se andranno su qualcuno, se una Zapata rimane lì. Quindi diciamo che sono due situazioni ancora da monitorare, Vlaovic, anche quello da monitorare, ma molto difficile, più che altro per il prezzo, su Correa si è fatto avanti Leverton, a meno, così si è detto, poi non lo so se è vero o no questa cosa, perché ormai su tutti i nomi, su cui c'è l'Inter è sul nome, bisogna fare i nomi di altre 300 squadre, l'Inter è sul Vlaovic, Atletico e Tottenham, l'Inter è su Correa, no c'è l'Everton, l'Inter è su Nandez, il Tottenham, e vabbè allora ditelo, quindi non lo so se queste cose sono realmente vere o no, soprattutto Everton Correa, non lo so, poi Nandez, su Nandez che vi ho detto c'era il Tottenham, non è arrivata nessuna offerta ufficiale, ok, si sono stati solo sondaggi fino ad oggi, ma sembrerebbe che Nandez rifiuti e voglia esclusivamente l'Inter, ovvio che se poi l'Inter dice a Nandez, guarda, non riusciamo a prenderti, lui accetterà la destinazione, perché io so che Nandez ha rotto col Cagliari, quindi o andrà all'Inter o andrà dall'altra parte, l'Inter gli ha detto, guarda, aspetta, perché prima di prendere te dobbiamo risolvere le uscite a centrocampo, se l'Inter riuscirà a risolvere le uscite e poi agganciare i rapporti col Cagliari, facendo forza sul volere del giocatore che accetterebbe solo l'Inter, secondo me si farà gli ultimi giorni di mercato, se l'Inter non riuscirà a far uscire nessuno, dirà Nandez, purtroppo per quest'anno non riusciamo, quindi o accetti un'altra destinazione, o giochi col Cagliari quest'anno e magari ci si può riprovare l'anno prossimo, vedremo la situazione Nandez, tanto ragazzi, finché da noi non esce nessuno, quella è la situazione con Nandez. Sull'autaro, che mi diceva anche prima Salva, che mi chiedeva, ha parlato Camagno, dicendo, rassicurando, dicendo che crede nel progetto dell'Inter, vorrebbe vincere un altro scudetto, che domani ci sa, ha appunto confermato che domani ci sarà l'incontro per il rinnovo, ragazzi, ormai io già credo poco, cioè non è che credo poco, già sono un po' scettico sulle parole ormai dei giocatori, avete visto anche Lukaku, ci sono rimasto io molto male, anche se non lo devo vedere, figuratevi se credo alle parole dei procuratori. Quindi ragazzi, aspettiamo domani l'incontro, vediamo come va, speriamo vada bene, nel caso vada bene, dopo andiamo subito su Brozovic, perché dopo di Brozovic ci sono una serie di rinnovi da fare, Lautaro prima di tutti, con Brozovic, e poi si dovrebbe fare anche Barella, perché se lo merita, e anche De Vrij, perché è scadenza 2023, e Rayo la spinge per un rinnovo, visto che forse ha fatto un piacere all'Inter, aiutandolo e spingendo per Danfris, e chiede un rinnovo per De Vrij, che comunque se lo merita vuole lui. Quindi ci sono un po' di rinnovi da fare, con i soldi di Lukaku si possono fare questi rinnovi. Su Nandez, vediamo perché Vidal, ragazzi, a Vidal sono arrivate offerte, l'Inter ha detto che il suo prezzo è troppo, il suo ingaggio è troppo pesante, però lui ad oggi, sembra aver rifiutato tutte le destinazioni. Quindi vediamo se Vidal si deciderà ad andare via, se l'Inter invece sarà categorica dicendo, no, guarda, tu non sei nel progetto, punto, oppure senza che magari cambia idea su di lui, insomma, vedremo anche lì. Prima cosa da fare è la prima punta, che poi tra l'altro c'è questo Mr. X, di cui si sta parlando, dovrebbe venire dall'estero, quindi si stanno facendo un po' di nome qua e là, se è fatto il nome di Kine, se è fatto il nome di Weghorst, se è fatto il nome di Vjovic, che poi Vjovic, tra l'altro lui vorrebbe venire, insomma, tanti nomi, ma secondo me non è stato fatto, non è nessuno di questi il vero nome, dall'estero, tra l'altro dall'estero c'è questo Mr. X, che dovrebbe interessare tutto un movimento di attaccanti, quali saranno? Non lo so, ci sarà, se riuscirà a fare? Boh, non si sa. Detto questo ragazzi, questo è quanto, ci vediamo domani, ragazzi, l'ultima cosa, forse, intanto ragazzi, seguiteci su Arena Sportiva, non vi vedo ragazzi, su Arena Sportiva, ogni sera in live, fino a chiusura calciomercato, non vi vedo, venite, venite, e poi, tra l'altro, forse nei prossimi giorni, o prossima settimana, farò una live di calciomercato, qui sul mio canale, solo Inter, io e voi, così, se avete domande, parliamo, chiacchieriamo, anche in generale, sul calciomercato, si può parlare, di tutte le squadre, italiane, estere, quant'altro, principalmente, ovviamente, sarà sull'Inter, ma poi si può chiacchierare, su tutto. Detto questo, io vi saluto, sempre e solo, forza Inter, a domani, anzi, a stasera su Arena Sportiva, mi raccomando.